come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità intanto vi dico già che ci potrebbero essere dei rumori di sottofondo perché un vicino di casa ha deciso oggi di fare delle ristrutturazioni quindi sembra che sta crollando la casa ma voi non dateci peso e ascoltate il video fino alla fine partiamo quindi subitissimo con la prima il primo aggiornamento di oggi vi informo che ancora possibile per pochissimi giorni richiedere il bonus per i genitori separati quindi la richiesta degli assegni per i genitori separati in difficoltà come è stato previsto dal decreto sostegno del 2021 cioè vi rendete conto che roba vecchia è questo contributo vale per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge collegato collegato ancora alla vecchia emergenza covi quella vecchia la che non posso dire qui su youtube se no mi banna il video allora si può procedere con l'invio della domanda all'inps come è stato comunicato dall'inps il 9 di febbraio con il suo messaggio 614 e allora prendete carta e penna mettetevi sul calendario questa data la scadenza è quella del 31 di marzo quindi mi raccomando chi ne avesse diritto e non ha ancora fatto domanda si deve affrettare come dico sempre non perdiamo questi soldi quando il governo ce li dà perché poi cosa succede che chi non fa domanda il governo se le riprende indietro e buonanotte sognatori quindi meglio in tasca noi che in tasca a loro ora vediamo un attimino di quanti soldi stiamo parlando perché questa è la parte più interessante questo contributo sarà pagato su domanda ovviamente non è che l'inps viene a bussare alla porta di riguarda che tu ne hai diritto quindi bisogna fare domanda e il richiedente deve essere il genitore che ha diritto all'assegno cioè non chi lo doveva versare ma chi lo doveva ricevere quindi viene pagato in misura pare all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui si è titolare fino a un massimo di 800 euro mensili e per un periodo massimo di 12 mensilità cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione molte persone mi stanno chiedendo quando arriva la ricarica della carta acquisti di marzo è una domanda molto molto particolare perché in realtà la ricarica è partita già da metà di questo mese se non addirittura dall 11 o 12 di marzo quindi a questo punto io non vorrei che si faccia confusione eventualmente con la ricarica del mese di aprile che in realtà sappiamo benissimo che non è prevista la ricarica ad aprile perché il prossimo mese di pagamento cioè di ricarica sarà quello di maggio perché ricordatevi sempre che la carta qui si viene ricaricata ogni due mesi quindi bimestralmente e l'ultima volta la ricarica è stata fatta a gennaio cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione arrivano i nuovi aumenti per l'assegno unico universale per i figli ma a questo punto vediamo bene di cosa si tratta apro solo una piccola parentesi se non avete ancora ricevuto il pagamento dell'assegno unico fatemelo sapere qui sotto nei commenti così cerco di capire che cosa sta succedendo ma come solito non scrivetemi sì mi interessa perché capite bene che su un video di 8 9 minuti se mi scrivete sì mi interessa per me è impossibile riuscire a capire cosa vi interessa quindi scrivetemi sì mi interessa come mai appunto non è arrivato il pagamento dell'assegno unico io poi cerco di capire cosa sta succedendo e quando poi trovo una soluzione o una risposta poi vi preparo un nuovo video ma a questo punto torniamo a noi all'argomento in questione come vi ho accennato prima l'assegno unico come tante altre prestazioni pagate dall'inps saranno ovviamente adeguate al costo della vita e verranno pagati degli aumenti proprio legati in relazione all'inflazione quindi l'assegno unico aumenterà ancora nel 2024 quindi quest'anno raggiungendo un numero ancora più alto delle 5,9 milioni di famiglie che l'hanno percepito solo per i primi nove mesi del 2023 infatti il decreto legge 230 del 2021 giusto così per infarinare un po la cosa stabilisce che gli importi siano correlati correlati in questo senso correlati all'inflazione e vadano adeguati ogni anno al costo della vita come vi avevo già detto anche in altri video all'inizio dell'anno scorso quindi stiamo parlando del 2023 l'importo mensile era stato rivalutato dell'otto virgola 1 per cento quindi l'importo era così da 175 euro a 189 euro per le famiglie con isè a 16.215 euro che comunque prima era 15 mila euro più adeguamenti istat e poi da 50 54 euro mensili per chi ha un isè superiore a 44 mila euro che prima era 40 mila euro più adeguamenti istat invece adesso ci saranno nuovi aumenti e così da già gennaio già da gennaio di quest'anno grazie all'applicazione dell'indice istat va come vi ho spiegato prima che provvisorio del 5,4 per cento sia agli importi che alla soglia isè succederà questo quindi abbiamo tre diciamo tre fasce no allora la prima un assegno unico con importo minimo che salirebbe a 57,2 euro per redditi oltre a 45 mila e 500 euro poi un assegno unico con importo massimo che passerebbe a 199 euro e 40 centesimi per redditi fino a 17 mila e 90 e rotti e poi la maggiorazione per i due genitori lavoratori che salirebbe a 34,15 euro 34,15 per ciascun figlio infine l'inps comunicherà anche le modalità di erogazione in questo senso qua che potrebbero non essere calcolata nella prima mensilità ma a conguaglio con il tasso definitivo a partire da marzo di quest'anno inutile di quest'anno comunque a partire da marzo cambiamo argomento parliamo di un'altra questione parliamo dei pensionati perché qui sul mio canale qua sul canale non se ne parla mai ne parlo pochissimo forse ne parlerò una volta al mese è giustamente anche pensionati hanno bisogno dei loro approfondimenti ebbene il cedolino della pensione accessibile tramite ha anche accessibile tramite il sito internet online dell'inps sappiamo che il documento che consente pensionati di verificare l'importo pagato ogni mese dall'inps e questo me il prossimo mese ad aprile il pagamento verrà fatto con valuta 2 di aprile vi ricordo che alla fine del 2023 anzi prima apro una parentesi questa valuta del 2 di aprile è stata comunicata dall'inps anche se ne sappiamo che il giorno viene fatto di solito il primo giorno bancabile però l'inps ha comunicato il 2 di aprile poi eventualmente se ci fossero degli aggiornamenti o che cosa lo sapete ve lo dico sempre prima comunque torniamo a noi vi ricordo che a fine 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consulti consuntivo consuntivo delle ritenute erariali cioè le tasse ecco applicate nello stesso anno di imposta quindi stiamo parlando come vi ho detto il perf addizionali regionali e comunali a saldo sulla base della montare udite bene udite perché tutto un discorso né lungo sulla base della montare complessivo delle sole prestazioni e pensionistiche erogate dall'inps e tra l'altro tra l'altro qualora errate i di pensioni di gennaio e di febbraio attenzione di quest'anno siano risultati insufficienti per il recupero cioè della serie prima te li do e poi me li ripiglio no cioè così fanno cosa succede che l'inps proseguirà con le ritenute le non le ritenute con le trattenute su rate i mensili successivi fino ad estensione del debito cioè quindi se l'hanno pagato di più l'anno scorso quest'anno se li ripigliano tutti ecco il sorpresone bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube per le nuove dirette live ci vediamo faccia a faccia per salutarci scambiare quattro chiacchiere risponde alle domande se non avete domande potete benissimo entrare in chat e venirci a venirmi a salutare o per salutare tutti quanti con questo è davvero tutto io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao